È una bellissima iniziativa, molto simbolica, però in effetti anche molto efficace, come abbiamo visto, un mattoncino alla volta, riuscire a risolvere quelli che sono i problemi, ormai di una popolazione sempre più grande, perché abbiamo dei dati europei che sono significativi, il 27% della popolazione è superiore ai 16 anni, pensate più di 100 milioni di persone hanno comunque delle necessità, delle disabilità che in qualche modo vanno aiutate e su questo ovviamente l'impegno da parte della comunità europea nel cercare di lavorare sempre di più su quella che è l'integrazione per le persone che hanno questo tipo di difficoltà. Solo occupandosi delle esigenze personali di ciascuno, l'Europa potrà davvero essere percepita più vicina.